Leo ormai era convinto di passare più tempo a schiantarsi che a volare. Se fosse esistita una carta punti per chi si schiantava di più, lui ne avrebbe avuta una doppio platino. Riprese conoscenza mentre era in caduta libera fra le nubi. Aveva un vago ricordo di essere stato schernito da Chione un attimo prima di essere spedito come un razzo verso il cielo. Non l'aveva neanche vista in effetti, ma non avrebbe mai potuto dimenticare la voce di quella gelida strega. Non sapeva per quanto tempo aveva continuato a salire, ma a un certo punto doveva essere svenuto per il freddo e per la carenza di ossigeno. Ora invece stava precipitando, dritto, verso lo schianto peggiore della sua vita. Le nubi gli si aprirono intorno, facendogli vedere il mare che scintillava. Molto, ma molto lontano. Nessuna traccia del Largo 2. Neanche l'ombra di una costa, conosciuta o sconosciuta che fosse. Solo una minuscola isola all'orizzonte. Leo non sapeva volare. Gli erano rimasti un paio di minuti al massimo prima di colpire l'acqua e spiaccicarsi di brutto. Non gli piaceva quel finale per l'epica ballata di Leo. Stringeva ancora la sfera di Archimede fra le mani, ma non ne fu sorpreso. Svenuto o meno, non avrebbe mai abbandonato il suo bene più prezioso. Con una piccola manovra, riuscì a tirare fuori un po' di nastro adesivo dalla cintura degli attrezzi e a legarsi la sfera al torace. Messo così, sembrava un Iron Man da due soldi, ma almeno aveva entrambe le mani libere. Si mise all'opera, armeggiando forsennatamente con la sfera, e dalla magica cintura degli attrezzi tirò fuori qualsiasi cosa che avrebbe potuto aiutarlo. Un telo, prolunghe di metallo, un po' di corda e alcuni occhielli. Lavorare in caduta libera era quasi impossibile. Il vento gli ruggiva nelle orecchie. Continuava a strappargli di mano attrezzi, viti e stoffa, ma alla fine Leo riuscì a costruire un telaio. Aprì uno sportello sulla sfera, estrasse due cavi, e li collegò alla sbarra. Quanto tempo gli mancava prima di schiantarsi sull'acqua? Un minuto? Girò il quadrante di controllo della sfera, che ronzò e si mise in azione. Altri cavi di bronzo schizzarono fuori dal globo, percependo distinto di cosa Leo aveva bisogno. Le corde si avvolsero intorno al telo di stoffa. Il telaio cominciò a espandersi per conto suo. Leo tirò fuori una latta di cherosene e un tubo di gomma, e li legò al nuovo motore che stava assemblando con l'aiuto della sfera. Infine fece un'imbragatura, e si assicurò la struttura X sulla schiena. Il mare era sempre più vicino. Una distesa scintillante, ideale per morire con un bel ceffone sul viso. Leo lanciò un grido di sfida, e premette il pulsante di override sulla sfera. Il motore si accese sbuffando. Il rotore improvvisato si avviò. Le lame di stoffa cominciarono a girare, ma troppo lentamente. Leo aveva la testa puntata dritta verso il mare. Mancavano circa 30 secondi all'impatto. Almeno non c'è nessuno in circolazione, pensò con amarezza. Altrimenti sarei diventato lo zimbello dei semidei per l'eternità. Quale fu l'ultima cosa che gli passò per la testa? Il Mediterraneo. All'improvviso la sfera diventò calta sul torace, e lame cominciarono a girare più velocemente. Il motore sbuffò. Leo si inclinò di lato, fendendo l'aria. «E vai!» gridò. Era riuscito a costruire l'elicottero personale più pericoloso del mondo. Sfrecciò verso l'isola in lontananza, ma stava cadendo ancora troppo velocemente. Le lame fremettero, la tela fischiò. La spiaggia si trovava a poche centinaia di metri. Quando la sfera diventò incandescente come lava, l'elicottero esplose, lanciando fiamme in ogni direzione. Se non fosse stato immune al fuoco, Leo si sarebbe carbonizzato. Ma visto come stavano le cose, l'esplosione probabilmente gli salvò la vita. Si ritrovò scagliato di traverso, mentre il grosso del marchigegno si fracassò fra le fiamme colpendo la riva alla massima velocità. Boom! Il figlio di Efesto aprì gli occhi, sorpreso di essere ancora vivo. Era seduto in un cratere di sabbia grande quanto una vasca da bagno. A qualche metro da lui, una colonna di denso fumo nero intorbidiva il cielo salendo da un cratere molto più grosso. La spiaggia era cosparsa di pezzi più piccoli del relitto, in fiamme. La mia sfera! Leo si toccò il torace. La sfera non c'era. Il nastro adesivo e l'imbragatura si erano disintegrati. Si rimise in piedi a fatica. Non aveva ossa rotte, per fortuna. Più che altro era preoccupato per la sfera di Archimede. Si aveva distrutto quell'inestimabile tesoro per costruire un elicottero andato in fiamme in 30 secondi. Avrebbe dato la caccia a quella stupida dea della neve per lanciarle in testa una chiave inglese. Camminò barcollando lungo la spiaggia, domandandosi perché non ci fossero turisti, né alberghi o barche in vista. L'isola sembrava perfetta per un villaggio turistico, con l'acqua azzurra e la sabbia soffice bianca. Forse non era segnata sulle carte geografiche. Esistevano ancora isole sconosciute al mondo. Forse Chione lo aveva sparato fuori dal Mediterraneo. Per quanto ne sapeva lui, era atterrato a Bora Bora. Il cratere più grande era profondo quasi due metri e mezzo. Sul fondo, le lame dell'elicottero tentavano ancora di girare. Il motore sputava fumo. Il rotore gracchiava come un rospo schiacciato. Per essere un lavoro fatto in fretta e furia era formidabile, si disse Leo. L'elicottero si era evidentemente schiantato su qualcosa. Il cratere era cosparso di pezzi di mobilia, piatti di ceramica spaccati, calici di peltro mezzo disciolti e tovaglioli di lino bruciacchiati. Leo non capiva cosa ci facesse tutta quella roba strana sulla spiaggia, ma almeno significava che quel posto era abitato. Finalmente scorse la sfera di Archimede, fumante e annerita, ma ancora intatta, che metteva un sinistro ticchettio al centro del relitto. «La mia sfera!» gridò Leo. «Vieni da papà!» Scivolò sul fondo del cratere e la raccolse. Poi si lasciò cadere sulla sabbia, si sedette a gambe incrociate e la cullò fra le mani. La superficie di bronzo della sfera era arroventata, ma lui non importava. Era intatta e ciò significava che poteva ancora usarla. Ora, se fosse riuscito a capire dove si trovava e come tornare dagli amici. Stava facendo un elenco mentale degli attrezzi necessari quando la voce di una ragazza lo interruppe. «Che hai combinato? Hai fatto saltare in aria il mio tavolo da pranzo?» Leo sgranò gli occhi. Aveva conosciuto tante dèi, ma la ragazza che lo guardava con occhio torvo dal bordo del cratere aveva davvero l'aspetto di una dea. Indossava un abito bianco in stile greco, senza maniche e con una cintura intrecciata. Aveva lunghi capelli lisci, quasi dello stesso colore di quelli di Hazel, ma la somiglianza finiva lì. Il viso della dea era bianco come il latte, con occhi scuri a mandorla e labbra carnose. Sembrava avere una quindicina d'anni, più o meno l'età di Leo. E sì, certo, era bella. Ma con quell'espressione arrabbiata sul viso, gli ricordava le ragazze più belle di tutte le scuole che avesse mai frequentato. Quelle che lo prendevano in giro, che spettegolavano, che si sentivano molto superiori e che in pratica facevano tutto il possibile per rendergli la vita insopportabile. Insomma, la trovò subito antipatica. Oh, mi dispiace, disse il figlio di Efesto. Sono appena caduto dal cielo. Ho costruito un elicottero mentre ero per aria, ho preso fuoco a metà strada, ho fatto un atterraggio di fortuna e sono vivo per un pelo. Però sì, dai, parliamo del tuo tavolo da pranzo. Afferrò un calice mezzo disciolto. Vorrei sapere chi è che mette un tavolo da pranzo sulla spiaggia dove si possono schiantare degli innocenti semidei. Vorrei proprio saperlo. La ragazza strinse i pugni. Leo era sicuro che sarebbe scesa di filata nel cratere per dargli un pugno in faccia. Invece, alzò gli occhi al cielo. Davvero? Urlò alla volta celeste. Volete rendere la mia maledizione ancora più dura? Zeus, Efesto, Hermes! Non vi vergognate? Leo notò che aveva scelto tre dèi da rimproverare, uno dei quali era suo padre. Immaginò che non fosse un gran bel segno. Dubito che ti ascoltino. Sai, con questa storia della doppia personalità... Mostratevi! gridò la ragazza al cielo, ignorando Leo. Non vi basta che io sia in esilio? Non vi basta portare via quei pochi eroi positivi che mi è permesso incontrare? Pensate che sia divertente avermi spedito questo scarabocchio brustolito per togliermi la tranquillità? Non è per nulla divertente, riprendetevelo! Ehi, raggio di sole! Sbottò Leo. Guarda che sono qui! La ragazza ringhiò come un animale messo all'angolo. Non chiamarmi raggio di sole! Esci da questo buco e vieni subito con me! Così ti caccio dalla mia isola! Beh, visto che me lo chiedi in modo così carino? Leo non capiva perché quella matta fosse così agitata, ma non gliene importava granché. Se poteva aiutarlo a lasciare l'isola, per lui andava benissimo. Afferrò la sfera annerita e si arrampicò sulle pareti del cratere. Quando arrivò in cima, vide che lei camminava già a passo spedito lungo la battigia, quindi si mise a correre per raggiungerla. Era una spiaggia immacolata! Con aria disgustata, la ragazza indicò con la mano il relitto bruciato. Guardala adesso! Sì, chiedo scusa, brontolò Leo. Avrei dovuto schiantarmi su una delle altre isole. Oh, aspetta! Non ce ne sono! La ragazza sbuffò e continuò a camminare lungo la riva. Leo sentì una zaffata di cannella. Forse era il suo profumo. Non che gliene importasse. I capelli le oscillavano sulla schiena con un movimento quasi ipnotico, ma a lui non importava neanche questo. Scrutò il mare. Come aveva notato mentre precipitava, non c'erano masse terrestri né navi all'orizzonte. Guardando l'entroterra, scorse colline erbose e costellate di alberi. Un sentiero si inerpicava attraverso un bosco di cedri. Si domandò dove conducesse. Probabilmente al nascondiglio segreto della ragazza, dove rostiva i suoi nemici, per poi mangiarli al tavolo da pranzo sulla spiaggia. Era talmente assorto in quel pensiero da non accorgersi che si era fermata. Andò a sbatterle contro. La ragazza si girò e si appoggiò al braccio di Leo per evitare di cadere in acqua. Aveva mani forti, come se le usasse per guadagnarsi da vivere. Al campo le ragazze della casa di Efesto avevano mani forti come le sue, ma lei non assomigliava a una figlia di Efesto. Lo guardò di traverso, con gli scuri occhi a mandorla a pochi centimetri dai suoi. Il profumo di cannella ricordò a Leo l'appartamento della abuela. Caspita, erano anni che non ci pensava. La ragazza lo allontanò. Ok, qui va bene. Adesso dimmi che vuoi andartene. Cosa? Leo era ancora un po' intontito dall'atterraggio di fortuna. Non era sicuro di aver capito bene. Vuoi andartene? Ripetì la ragazza. Ce l'avrai un posto dove andare? Sì, i miei amici sono nei guai. Devo tornare alla mia nave. Bene, tagliò a corto lei. Di semplicemente, voglio lasciare Ogigia. Ok. Leo non capì perché, ma quel tono di voce un po' lo offese. Era ridicolo, visto che non gli importava niente di quello che pensava quella matta. Voglio lasciare... come cavolo hai detto tu? Ogigia! Sillavò lentamente la ragazza, come se stesse parlando con un bambino di cinque anni. Voglio lasciare Ogigia, disse Leo. La ragazza sospirò, evidentemente sollevata. Bene, fra un attimo apparirà una zattera magica. Ti porterà ovunque tu vogli andare. Chi sei? Domandò Leo. La ragazza stava per rispondergli, ma poi si bloccò. Non importa, presto sparirai. Evidentemente sei un errore. Questo è un colpo basso, pensò Leo. Aveva già speso troppo tempo a pensare di essere un errore. Come se mi dio, in quell'impresa particolare, ma anche nella vita in genere. Non c'era bisogno che una psicopatica dea qualunque sottolineasse il concetto. Poi gli tornò in mente una leggenda greca a proposito di una ragazza su un'isola. Forse gli ne aveva parlato uno dei suoi compagni. Ma non era importante, purché lei lo lasciasse andare via. Da un momento all'altro, la ragazza fissò l'acqua in lontananza. Non apparve nessuna zattera magica. Forse è bloccata nel traffico, disse Leo. Così non va! La ragazza lanciò un'occhiata torva verso il cielo. Così non va assolutamente! E quindi il piano B? Domandò Leo. Hai un telefono oppure... No! La ragazza si girò e si precipitò verso l'entroterra. Raggiunto il sentiero, sfrecciò nel bosco e scomparvi. Ok, riprese Leo. Oppure fuggi via? Tirò fuori dalla cintura a corda e moschettone e legò la sfera di Archimede alla cintura. Guardò il mare. Ancora nessuna zattera magica. Poteva rimanere lì ad aspettare, ma aveva fame, sete e sonno. Era conciato piuttosto male, per via della caduta. Non voleva seguire quella matta, a prescindere dal buon profumo che manava. D'altro canto, non aveva un altro posto dove andare. La ragazza aveva un tavolo da pranzo, e quindi forse anche del cibo. E sembrava trovare irritante la sua presenza. Irritarla è un vantaggio, concluse Leo, e la seguì sulle colline.